Ciao a tutti ragazzi sono Kendal e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft E come avete letto tutti quanti nel titolo di questo video oggi entrerò nei mondi dei fan Ne ho selezionati alcuni e vi ricordo che se volete potete invitarmi anche voi Perché avete la possibilità di avere un realm gratuito per ben 30 giorni Quindi vi basterà invitarmi mettendo il mio nome colui che osserva e io poi potrei entrare Adesso mi raccomando lasciate un bel mi piace e spero di incontrare qualche fan online per fargli una sorpresa Vediamo un pochettino che avete combinato sono sempre curioso di entrare nei vostri mondi Perché voi comunque conoscete molto bene la Candy Craft, la Big Vanilla, la Mod Craft e io voglio conoscere i vostri Ed eccoci qua nel primo mondo Uh aspetta aspetta allora io sono già in creativa molto bene Mi piace tantissimo il fatto che sia un mondo fatto in un bioma nevoso Non se ne vedono molti Qua abbiamo una bella stradolina che ti porta all'interno del suo realm e di casa sua effettivamente E sapete cosa? Già da subito posso dirvi che somiglia molto alla Vanilla Insieme 2.0 Cioè guardate l'uso di questi Campfire Oh Soul Campfire tra l'altro Messi qua appunto per fare un ponte Poi ci sono tutte quante le mura protettive attorno E che cos'è quella? Perché c'è la costruzione di uno slime? Allora fammi vedere subito a casa tua e ti lascio anche una sorpresina Perché a me piace sempre firmarmi quando entro nei vostri mondi Un po' come se fosse un autografo E quindi mettiamo un bel cartello qua No qua è volante aspetta mettiamolo qua all'entrata dai Un cartello qua con scritto Kendall è stato qui E gli faccio un cuoricino È l'unico modo che ho per darvi degli autografi tra virgolette qua nel gioco Allora Vabbè questa è una casetta piccolina con una spada in nederite senza enciante Però io sopra ho visto un'altra casa giusto? Mi è sembrato Ah è qua infatti come si ci arriva? Aspetta aspetta deve esserci un modo no? Deve esserci una scala qualcosa Ah non me ne ero accorto Qua ci sono delle scale Che ti portano su Eh sì sembra proprio la vanilla insieme 2.0 ragazzi Tutto molto bello Ma adesso io sono curiosissimo e voglio vedere intanto qua Vabbè ovviamente il museo delle armature come nella Candy Craft Mi piace ragazzi quando prendete spunto dalle nostre costruzioni nei video Significa che vi piacciono veramente tantissimo Io lo apprezzo E adesso qua c'è uno slime gigante La testa di uno slime Vediamo un pochettino che cosa c'è qua dentro sono curioso Come si entra? Dai ci deve essere un'entrata no? Da sopra? Non si entra? Da sotto? No non si entra da sotto E da dove si entra scusa? Cioè questo sembra tipo un pulsante ma non è un pulsante Aspetta No adesso dobbiamo cercare di decifrare l'entrata Ci deve essere un passaggio segreto o qualcosa? Proviamo ad andare in spectator Vediamo Ok siamo dentro C'è una botola Vediamo Si entra da qui Non me ne era accorto Beh devo dire che era super nascosto E questa a questo punto credo sia la sua casa Perché vedo tante ceste Vedo il letto Non lo so Ed eccoci qua in un nuovo mondo Oh mio dio Aspetta Quella è la torre dei quattro regni Con una riproduzione fedelissima Però Perché ho l'impressione di essere già entrato qua? Sono già entrato qua? Ci sono già stato? Forse in uno scorso video? Perché io mi ricordo della costruzione della torre dei quattro regni fatta da qualcuno di voi Ma questa qua mi sembra essere fatta molto meglio Cioè questa è super super fedele Ma ce l'ha un'entrata? Si può entrare in qualche modo? Ah ecco qua Perfetto Mancano soltanto le scale all'interno Manca qua il pavimento Bisogna chiuderlo Per metterci Aspetta questa te la riparo io Ok Perfetto No sì Comunque è super fedele Cioè è incredibile quanto sia Simile all'originale Sembra essere fatta blocco per blocco Seguendo un tutorial Qua invece che cosa ci abbiamo? Perché ho l'impressione di esserci già stato? Ragazzi ci sono già entrato in questo mondo? O è una mia impressione? Basta Perché questa costruzione non me la ricordo assolutamente È una casa Vediamo Si può È permesso Salve C'è qualcuno? Ok ci sono dei materiali Qua c'è un letto tipo una culla No Cioè non me la ricordo Mi ricordo di essere entrato in un mondo Che aveva la torre dei quattro regni Vabbè sapete cosa ragazzi? Visto che comunque ho la creativa E vi ringrazio Mi raccomando Quando mi invitate nei vostri mondi Datemi sempre la creativa Così posso volare in giro Posso vedere tutto per bene Scriviamo Kendal è stato qui E gli faccio un cuoricino pure a lui Per firmare la torre dei quattro regni E vediamo nel frattempo cos'altro c'ha Ci sono degli alberi giganti Qua palesemente fatti da lui Qua c'è poi una casa Ok Oh È entrato Oh È entrato il proprietario Ehm Ciao Vediamo dov'è Bellissimo ragazzi Adoro quando entrate Mentre sto registrando Vi faccio una sorpresa Eccolo Eccolo Ma comunque c'ha un'ottima armatura Vediamo la sua skin Ciao Vediamo allora Qua che cosa ci abbiamo Oh Uno schiavo È un collaboratore Volevo dire Un collaboratore Anche lui Una farm di canne da zucchero Mi insegnate a fare queste cose ragazzi Io non so farlo Grazie È una vanilla insieme Ah Ci gioca con gli amici Quindi Bella Anche la torre Possiamo fare una foto Ma certo Assolutamente Non dovete neanche chiederlo Facciamoci la foto Ok Ecco per quale motivo Ci sono così tante case Perché è una vanilla insieme Quindi ci gioca più di una persona Ah c'è un portale Ok Pensavo fosse tipo Un mob spawner Invece no Ciao Mi fanno morire I vostri mondi ragazzi Eh di nuovo Ciao Qui invece dove siamo Ok Non c'è nessuno online Si chiamava Il mondo della creatività Già vedo Un tetto tutto arcobalenoso Aspetta aspetta Ci sono dei cartelli Quindi Crociera Craft Di là Poi Atlantic Craft Sempre di là Villaggio degli abitanti E prigione Come prigione C'è anche una prigione Pri C'è una prigione A quanto pare Ma chi c'è qua in prigione Celle C'è qualcuno Come si apre Ah è certo Non si può aprire Se non ho la chiave Non posso aprire Aspetta ma come crociera Craft Uuu Guardate qua Tutto circondato da mura E queste cose cosa sono Quello è un tubo No è una coca cola È una lattina di coca cola Che rovescia la coca cola Nel mare No ragazzi Non ci posso credere Sembra petrolio Vediamo qua Crociera Craft Stanno facendo una nave Da crociera Mamma mia Stanno creando O sta creando Atlantide La città sommersa Ma che figata Fatemi vedere un attimo Belle Le costruzioni sott'acqua A me piacciono tantissimo Soprattutto da quando L'acqua È così bella Su Minecraft No Benvenuti Ad Atlanticraft Eh ma qua Il condotto Non è ancora finito Non riesco Non si può respirare qua no No vabbè ragazzi Ma la costruzione Della coca cola È stupenda Cioè mi viene voglia Di farla nel mio mondo È bellissima E anche questa casetta È bellissima Wow Aspetta 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 Firmiamoci Scriviamo Kendall Kendall È stato Qui Bella 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 Un po' spoglia Un po' vuota Forse è stata appena costruita Non lo so Però L'esterno è veramente Stupendo E qui invece cosa abbiamo No aspetta Questo non è possibile No 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 Questo non è un mondo Fatto da un fan Infatti C'ero rimasto un attimino Ero confuso C'ero rimasto male Perché questo qua È un mondo pregenerato Da Minecraft È costruito dal team di Minecraft E l'hanno giunto Nei reami Però è bellissimo Però non è fatto da un fan Oh 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 Vedo una scritta C'è scritto Candy O Kendall C'è scritto Candy Ok Quindi questo qua È un mondo di un fan Però credo sia Un villaggio di Minecraft Che è stato ristrutturato Sì 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 Questo è un villaggio di Minecraft Ristrutturato Però qua c'è Questa costruzione Sicuramente è stata fatta da lui Un piccolo igloo Le ceste sono vuote Vediamo un pochettino Analizziamo che cosa ha combinato Ci abbiamo Sicuramente Tipo una specie di trono malvagio Dove Incantarsi le robe Una casa multicolor Piena di cibo A questa persona Piacciono tantissimo Le cotolette di maiale E poi cos'altro c'è Ok Una ferrovia Con i vari binari Che ti portano in giro E ti portano Mamma mia Ha fatto veramente Tutta una ferrovia Vera e propria Si ferma Qui È una torre Tipo una torre Dei quattro regni Sali 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 E Buff Non c'è nulla Ma Ha praticamente ristrutturato Totalmente Un villaggio di Minecraft Si merita anche lui Un autografo Eh No aspetta Questo qua è un mondo generato Vero Se questo qua è un mondo fatto da un fan Io impazzisco E invito immediatamente questo fan all'interno della Candy Craft Ragazzi ditemi voi nei commenti È un mondo costruito da qualcun altro E aggiunto Quindi un mondo generato da Minecraft Oppure è originale Perché io non l'ho mai visto Io non ho mai visto Questo mondo Tra i template di Minecraft Vediamo Aspetta Se riusciamo a trovare tipo qualche cartello Lo capiremo subito No dai Non è possibile Ok No 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 Non credo Credo che sia stato fatto da qualche team di costruttori E poi è stato aggiunto dal fan nel suo realm Ed eccoci qui in un altro mondo candaloso Ok Non posso andare in creativa Casa al mare Vediamo Uh Ah 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 Cosa? Cosa sono quelle 64 mele d'oro P? Uh ma questa è la faccia di bella faccia E c'è anche la mia Però mi mancano gli occhiali Devi fare anche la parte bassa degli occhiali Vedi? Vedi come sono? Sono tipo rettangolari Tu le fatti soltanto di sopra Ok Ha fatto un bel ponte Una banca Con il segno del dollaro E ci sono tanti mostri Ah ma È tutto quanto fatto sul mare È come È come la vanilla hardcore di bella faccia Torre d'avvistamento Sì c'è un problema però È quasi tutto rotto Mi sa che è esploso qualche creeper No 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 Ok Devo Devo cambiare mondo Questo è l'ultimo reame In cui entrerò E Bene Ciao Ciao anche a te Basta Kendall Hai operatore Vai a Ah ok ok aspetta Ok Ah Sono queste le coordinate vere e proprie Pensavo ci fosse scritto ciao e basta Ok Abbiamo una scalinata sulla montagna Un bel ponte sulla montagna Mi piacciono i ponti sulla montagna Molto bello Poi cos'altro c'è qua Ci sono due casette sembrerebbe Una casetta sul lago Ciao Fai pure E poi questa qua che credo sia in costruzione ancora Perché mi sembra un po' spoglia Sì mi sembra tipo una specie di magazzino Beh ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un bel mi piace se così è stato E voi continuate a invitarmi nei vostri mondi Perché questa serie io voglio continuarla Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao Ciao